Siamo purtroppo qui di nuovo a parlare dello stesso argomento, ma questo è un argomento che sta a cuore al gruppo politico Siamo Alba, sta a cuore dei comitati spontanei che si sono creati, il comitato a tutela del Verde, con Alpa, Lega Ambiente e tanti altri, ma soprattutto anche a tutti i cittadini, a tanti cittadini di Alba Diarica. Ci tengo a precisare, se mai ce ne fosse bisogno, che questa non è una battaglia politica, non è una battaglia di destra, non è una battaglia sinistra, non è una battaglia contro l'amministrazione Caciotti, questa è una battaglia di civiltà. Noi siamo di nuovo qui a dover richiedere, a dover pregare il sindaco di ripensare questo progetto. Sono stati abbattuti 56 esemplari, se non vado errato, alcune soltanto sulla base di una VTA, alcune su un parere post-mortem perché successivamente è l'abbattimento delle piante e vorremmo che i 91 esemplari dell'ultimo tratto, quindi quello che va dall'inizio pineta fino a una bambina più comunale, non facciano la stessa fine. Quinteremo in campo tutte le nostre forze e ultimamente devo dire, non per ultimo da ieri c'è stato un parere del professor Pedrotti che non credo, il professor Pedrotti credo che sia un autorevolissimo parere, anche lui prega il sindaco di mettere in campo tutte le possibilità per poter salvaguardare il patrimonio arboreo esistente e soprattutto di poter salvaguardare i pioppi che ancora sono rimasti in vita.